Abbiamo appena terminato la riunione del comitato operativo durante la quale abbiamo avuto la notizia dell'arrivo dei nostri connazionali all'aeroporto di pratica di mare. Sono stati ultimati controlli sanitari, non ci sono problemi di sorta per i nostri concittadini rientrati che adesso stanno per essere portati alla cecchignola presso il centro sportivo dell'esercito. Abbiamo anche fatto il punto sull'acquisto dei termoscanner da parte delle società aeroportuali. Nel frattempo abbiamo deciso l'impiego delle nostre volontarie e dei nostri volontari nelle areostazioni per il controllo della temperatura e nei porti e nei luoghi di frontiera.